buongiorno amici e amiche di nova news 24 salgono a 12 i concorrenti famosi che entreranno nella casa della prossima edizione del grande fratello a fare il nome del dodicesimo vippone del cast è stato davide maggio si tratta di lino giuliano di temptation island napoletano di professione barbiere lino giuliano è noto al pubblico di canale 5 per aver preso parte questa estate all'undicesima edizione di temptation island insieme alla fidanzata alessia pascarella relazione che è naufragata dopo quattro anni all'interno del programma durante il quale lino non ha saputo resistere alle attenzioni della single mike arandazzo che ha frequentato per un po anche a telecamere spente nonostante un tentativo di riappacificazione con alessia durante un secondo falò di confronto straordinario al suo attivo anche un singolo guagliò inciso con il fratello giuliano punto secondo fanpage tv blog però lino giuliano non sarebbe l'unico nome pescato dall'ultima edizione di temptation island oltre lui potrebbero diventare concorrenti anche la sua ex alessia pascarella e la sua tentatrice mai carandazzo ecco i nomi dei primi concorrenti scelti da alfonso signorini clarissa bart attrice clayton norcross attore e leonora cecere ilaria galassi e pamela petrarolo ex di non è la rai gareggeranno come unico concorrente enzo paolo turchi coreografo giulia mannucci ex il collegio elena prestes modella iago garcia attore aviar martinez modello jessica morlacchi cantante lino giuliano ex temptation island luca calvani attore shayla gatta ex velina ci sono tutti gli ingredienti per un inizio scoppiettante ma attenzione amici e amiche ancora tutto potrebbe cambiare e qualche nome potrebbe anche saltare intanto di teci cosa ne pensate e seguiteci sempre su nova news 24 ciao 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 ciao